buongiorno a tutti oggi commenteremo una partita tra professionisti il bianco è masao il nero e go seigen che è uno dei giocatori del gioco del go più famosi di sempre uno dei più forti di sempre senza ombra di dubbio uno dei precursori del anzi fautori oserei dire dello shin fuseki che abbiamo già visto in qualche video precedente è appunto uno dei migliori giocatori tra il 1930 e grosso modo il 1950 seigen morì nel 2014 a 100 anni ma sfortunatamente per lui quando iniziarono gli anni 60 fu coinvolto in un terribile incidente che praticamente gli impedì di giocare a go e quindi non riusciva a trovare la concentrazione la la forza d'animo per mettersi al go ban e quindi la sua carriera di fatto finì negli anni 60 anche se appunto questa partita qua è comunque una una parte molto illustrativa del suo stile di gioco il go seigen appunto ha vissuto ha dominato proprio la il top del top del top del go per circa 25 anni battendo dei degli avversari veramente molto tosti molto molto forti e ancora oggi alcune sue idee sono valide nonostante l'avvento dei computer c'è certi giosecchi che lui diceva che erano sbagliati lo erano veramente magari lui l'aveva visto sul livello intuitivo però poi sai quando trovi la conferma anche del del bot chiaramente vuol dire che la persona di cui si sta parlando è una personalità non da poco guardiamo questa bellissima partita contro masao l'apertura è in stile diciamo non proprio shusaku però è un'apertura che ancora una volta invitava il bianco a prendere le redini del gioco da subito un go seigen molto spesso prendeva sempre i tre angoli perché comunque lui credeva nel territorio anche se poi nello shifu zeki lui utilizzo altre strategie prove notiamo subito una cosa che molto molto standard vedete lui gioca la mossa diagonale di shusaku ma soprattutto volevo far notare una cosa che il gioco ad alto livello nonostante poi computer abbiano in qualche modo rivalutato la forza delle pinze in qualche modo ne è comunque sempre legato cioè le pinze in generale provocano un gioco molto più tagliente molto più tattico che mosse più standard che mirano quasi solo al prendere territorio quindi giocare le pinze in qualche modo porta obbliga il giocatore sia col nero che col bianco a creare dei gruppi un po un po più un po più deboli e spesso e volentieri crea un gioco appunto dove sbagliare una pietra sbagliare una mossa comporta la perdita dell'intera partita ecco perché queste partite qua sono molto istruttive da da guardare ok sono delle presse all'epoca andavano bene questa questa pietra collabora bene con queste qui magari oggi se oggi si poteva pensare una pinta una pressa di questo tipo o comunque a qualche altra uscita di questa pietra oppure qualche attachment qua sotto ok questo no giosecchi molto standard per l'epoca ok una volta abbiamo visto il bump play praticamente quando quando noi abbiamo questa forma qui vedete due in fila e uno si stretcia sempre o di qua o di là a seconda dei casi vedete subito come il gioco diventa rapidamente pieno di tagli e soprattutto dove i gruppi non sono stabilizzati in modo tranquillo cioè non è che ci sono delle basi e poi da queste basi si sviluppa del territorio qui c'è ancora c'è ancora tutto molto fluttuante queste pietre qua non si sa bene dove riusciranno a trovare rifugio però da parte anche vero che il bianco comunque non è al sicuro questo taglio qua può preoccupare il nero vediamo come continua la partita chiaramente si minaccia di prendere queste pietre il bianco estende si salva il taglio e andando avanti ok arriviamo a questa prima situazione critica che è questa go seggen gioca in modo molto solido cioè evita di creare complicazioni che comunque non saranno evitate per la posizione troppo tagliente ci sono troppi tagli possibili però prima di continuare qui il computer suggerisce un approccio di questo tipo che in effetti ottiene praticamente gli stessi risultati di prima solo che il nero prende più territorio allora criticare per una differenza del genere chiaramente sembra quasi un po un po supponente però comunque in effetti è vero la variante che propone il computer è questa e come vedete guardiamola fino in fondo ok come si vede a differenza di quello che vedremo in partita qui il nero ha preso più territorio non c'è dubbio mentre quando il nero gioca in questo modo qua chiaramente il territorio è più piccolo queste mosse qua sono più tipiche appunto di chi riesce a calcolare con precisione molte mosse avanti perché qua bisognerebbe valutare ovviamente un taglio di questo tipo che è tutt'altro che facile da fare a tavolino ovviamente i professionisti ce la fanno intendiamoci però è umano pensare a una mossa di questo genere che è la partita continua e vedete che ogni volta come vedremo dopo il gioco è sempre incentrato sul avere gruppi non stabilizzati e fino alla fine della partita non si sa bene quale sia il gruppo che viene catturato e quale sia il gruppo che invece riesce a salvarsi questa pietra qui separa queste pietre da questa e vediamo che cosa succede prima di continuare con la mossa della partita che il computer vede come un piccolo errore diciamo anche se anche questa è molto spontanea vediamo qual è la mossa giusta ecco per tra virgolette punire questa mossa del nero si può pensare a questa mossa adesso e più avanti guardando proprio l'intera variazione vedete che in effetti il nero il bianco è riuscito a prendersi un pelino di più un qualche piccolo territorio in più e ha concesso qualche mossa in più al bianco a differenza appunto di un'estensione più larga prima il piano comunque ancora una volta è quella di vedere se queste pietre del nero riusciano a salvarsi oppure no quindi è abbastanza umano per il giocatore col bianco pensare a destendere queste pietre per poter mettere in difficoltà queste altre del nero ok il nero ovviamente cerca di fuggire il bianco si prende appunto il il territorio che sarebbe stato in realtà più difficile da ottenere se per caso questa pietra che fosse stata qui sotto il nero bump però vedete che ancora una volta qui il bianco risponde in questo modo facendo tenuchi tuttavia come sappiamo quando c'è un bump di solito bisogna rispondere magari non proprio localmente ma bisogna rispondere in zona infatti il computer pensa che questa mossa sia un errore diciamo anche se evidentemente al lato pratico è ovvio che questa questa mossa qua crea comunque una discreta pressione su queste pietre del nero il computer ha il vantaggio che a differenza di un giocatore umano sa benissimo che queste pietre qua possono sopportare la pressione di tutte queste pietre bianche ecco la mossa più indicata sarebbe stata questa perché il piano è proprio quello di attaccare questo gruppo e cercare quindi di evitare che questa mossa del nero qui diventi sente in qualche modo questa mossa qua che apparentemente è gote mette sente contro questo gruppo del nero intendiamoci questo gruppo del nero qui non è che si riesce a prendere in 448 perché ha molte vie di fuga però comunque questa mossa qua stabilizza questa parte superiore del gobann e rende più difficoltoso il cammino diciamo verso la salvezza di questo gruppo ecco possiamo vedere la variante illustrativa stretch e dopo vedete che il bianco crea molta molta pressione sul gruppo nero ok bump dicevamo mossa sotto adesso il nero risponde in modo molto umano molto naturale cerca di stabilizzare le pietre buonanotte e cerca di dire vabbè ok questa mossa qua non voglio che sia pericolosa contro questo mio gruppo difendo l'angolo cosa può succedere di male il computer ovviamente che non si agita ogni volta propone una mossa più attiva il bump non era stato diciamo risposto e ecco che il nero ne può profittare ok ancora una volta vedete questa pressione qua che comunque è un po' minore perché manca un po' una pietra qua ok il nero gioca qui dicevamo ora il bianco gioca una mossa standard per l'epoca perché contro questa contro questa shape si rispondeva qui per cercare di creare poi un doppio taglio una minaccia di doppio taglio ma semplicemente si poteva anche ovviamente riparare il danno evitando il la hane in questo punto giocando questo il nero insiste nel sottovalutare la potenza la potenza diciamo di questo hane e ancora una volta che era proprio una mossa come dicevamo prima che crea pressione su queste pietre più indicata naturalmente sarebbe stato il solito hane dopo questa il bianco comette un errore abbastanza non grave anche qua ancora una volta comprensibile il bianco comincia a riunire le sue pietre per poter fuggire e per creare in qualche modo una sorta di contraattacco contro queste pietre tuttavia semplicemente questa mossa come abbiamo visto nel caso precedente avrebbe messo molta più pressione su questo gruppo del nero ok finalmente Goseigen capisce che questo hane è essenziale il bianco streccia e il nero fate i nuchi ancora una volta si poteva pensare a questa mossa per attaccare l'angolo e la mancata pietra del bianco in G16 che avrebbe messo in difficoltà entrambe le parti il bianco avrebbe dovuto uscire con la forma casetta forma L il bianco e il nero come vedete c'è che tagliare le vie di fuga il bianco esce è un light play chiaramente abbiamo sempre stato attenti in questi casi qua non farsi rinchiudere perché ogni volta si pensa sempre che se il bianco in fuga poi in realtà si perde un attimo la concentrazione si perde questo gruppo il nero esce e vedete il nero toglie la forma per gli occhi al bianco e questa partita qua è più confortevole per il nero rispetto al bianco ecco tuttavia il nero gioca una mossa molto molto lenta anche se in qualche modo questa mossa vuole circondare questo gruppo del bianco ok? come vedete circondare il gruppo del bianco non è semplice però almeno si riesce a dare un po' di influence da questa parte una mossa più diciamo da computer poteva essere questa una sorta chiamo così di leaning attack contro questo non è proprio un leaning attack ma un paio di mosse forzanti qui per dirigire la struttura del nero e poi come al solito accanirsi su queste su queste pietre tuttavia questa mossa qua è anche qui più naturale perché rinforza queste pietre e isola la pietra del bianco il bianco cerca facile vita nell'angolo cerca di separare il gruppo è molto bella questa forma qui è una forma proprio da campione il nero weggia e il bianco ancora una volta come dicevo mette in pratica l'idea base che aveva voluto fare prima cioè cercare di uscire tagliando le pietre del nero il nero la gruppa il bianco estende e alla fine appunto come vedete il bianco è diviso in due tronconi è ancora tutto da dimostrare che queste pietre qua del bianco sono salve tuttavia ovviamente come vi ho detto è vero anche che il nero deve dimostrare che queste pietre qua sono cutting stone cioè pietre che tagliano o o se invece sono delle pietre che sono semplicemente catturate ecco il nero ovviamente vuole riforzarle e il bianco estende e come spesso succede l'abbiamo già detto tante volte i gruppi grandi difficilmente muoiono il bianco c'è che salvare e poi pian pianino e ci avviamo a a vedere una bellissima lotta qua in basso a sinistra col co è una lotta molto istruttiva il nero vedete cattura la pietra e la tari per il nero e finalmente comincia la parte istruttiva se volete tattica comincia un co molto importante è un co che è molto largo coinvolge diciamo soprattutto queste quattro pietre qua del nero che cominciano ad essere tagliate fuori perché queste pietre qua del bianco cominciano ad essere cutting stone separating stone quindi bisogna andate mostrare attenti ok il bianco esce non può ovviamente permettere che queste pietre si connettano facilmente cerca di fare cane ecco che ora adesso il bianco e il nero sono committati in qualche modo a salvare queste pietre o trovare un'alternativa il nero catta e però il bianco rinforza come vi dicevo queste pietre del bianco cominciano un po' cominciano un po' soffrire queste pietre del bianco minacciano di uscire da questa parte ecco che il nero è forzato a connettere e il bianco appunto comincia l'accerchiamento solito discorso non è mai chiaro chi stia tentando di accerchiare chi però in questo caso quel bianco si vede che forse arriva un attimo prima il nero comincia a fare un po' di forma e soprattutto minaccia qua sotto parte il co prima minaccia il bianco connette e adesso il nero salva e vedete che come dicevo prima forse queste pietre qua sono loro a finire in trappola chissà il bianco salva quindi non è vero e riparte il co il bianco cerca ancora una volta di salvare queste pietre in modo facile ecco che il nero deve connettere e ripare avendo il co ecco che il nero cerca di uscire però questo gruppo qua ancora una volta è in grave pericolo tutto sta nel cercare di capire se questo co qua si può chiudere e se questa pietra qua riesce a uscire è così in effetti si può dimostrare per un po' troppo lungo che il nero se per caso il bianco non prende riesce a uscire e il nero così ha tempo di riprendere un attimo di fiato il co la sopra è troppo grande perché se per caso il nero non rispondesse prenderebbe tutte queste e quindi questa mossa è forzata e il bianco riprende il co ecco che il nero cerca di uscire il bianco chiude il nero taglia ecco qua il punto che trova Masao l'idea è quella di mettere il nero di fronte a un dilemma vuoi vincere il co oppure mi lascia uscire e perdi queste pietre che all'inizio sembravano cutting stone ma in realtà non lo sono Goseigen gioca questa tuttavia una mossa più naturale come questa è vero che salva completamente il gruppo del nero queste pietre catturate queste escono tuttavia cos'è il problema il problema è che il bianco semplicemente esce di qua si può fare anche di qua ovviamente non è un problema ma il bianco esce e ha buon mercato e si si guadagna appunto queste pietre del nero Seigen appunto prende qui sotto il bianco esce era il patto che si è servato all'inizio ma stavolta il nero si prende tutto l'angolo sotto a differenza di prima entrambi sono contenti perché hanno servato i loro gruppi tuttavia c'era la possibilità di creare ulteriore complicazione col nero è comprensibile però che a tavolino ovviamente il nero non abbia dato questo interesse a complicare il gioco fino a questo punto e poi ovviamente il computer lo vede bene e il giocatore chiaramente deve continuamente valutare valutare un po' di stanchezza può fare brutti tiri però questa mossa qua sarebbe stata molto forte questa forzata la guardiamo rapidamente vedete che sotto c'è il co dopo qualche scambio ok ecco che il nero sarebbe passato in vantaggio il computer conferma questo giudizio perché queste pietre qua del nero e del bianco stavolta sono catturate ovviamente è comprensibile che il nero voglia semplicemente farla finita e pensare a giocare da qualche altra parte piccolo problema di salvare queste tre pietre sarà presto risolto bellissima manovra peraltro tutto a Tessuji però appunto non abbiamo tempo di commentarlo troppo il bianco deve cominciare a pensare qualcosa per salvare questo gruppo lo fa agevolmente pip ma in realtà non è una vera pip perché vedete che il bianco cattura definitivamente queste due pietre e il gioco si sposta qua sopra esattamente quello che consigliavamo prima il bianco si salva con la solita shape e vedete che ancora una volta c'è una cosa tipica delle partite tra high down player cioè tra giocatori done di alto livello l'idea è che ogni volta sembra quasi che un gruppo stia per catturare un altro e poi l'altro che cattura l'uno vedete che questo questo gruppo di pietre del nero con questo sembra quasi schiacciare queste tre pietre del bianco in realtà a guardare un po' un attimo bene forse sono queste tre pietre qua e queste che schiacciano questo gruppo del nero tipicissimo dei giocatori done bisogna cercare di farlo anche nelle nostre partite ovviamente dal dire e fare c'è di mezzo il bianco fa forma il quadrato e vedete che appunto prima sembrava che fosse il bianco ad essere in difficoltà adesso forse è il nero il nero deve fare un po' di attachment doppia pip e adesso una volta sembra quasi che il bianco non abbia possibilità di salvare il gruppo in realtà questa mossa qua che è una sorta di leaning attack del bianco vedete che mette in difficoltà il gruppo del nero stavolta e quindi prima sembrava che fosse il bianco ad essere schiacciato in realtà adesso sembra che sia il nero a finire male ok qualche mossa di assestamento ok e con questa mossa qua l'attenzione si è spostata adesso sul prendere queste quattro pietre del bianco è una mossa molto grande in effetti lo è e qua il bianco deve decidere che cosa fare teniamo conto che con il giochetto che si è fatto qua sotto adesso queste pietre qua del bianco sono morte e anche queste quindi il bianco ha un grande gruppo centrale è anche vero però che in cambio il bianco ha tutta questa zona qua che non è piccola assolutamente qualche mossa appunto di assestamento e finalmente andiamo ad un'altra tematica di questa partita arriviamo qua ok qui Igo Seigen gioca a questo tuttavia il computer suggerisce questa che è un piccolo miglioramento per cercare di prendere tutto questo territorio qua del bianco dopo qualche mossa di assestamento notiamo subito dice qual è la tematica ok qua lasciamo stare ok ecco che qui il gruppo del nero è finito male appunto verrà catturato questo gruppo qua del bianco lo sovrasta però il nero si prende qualche altra mossa per poter fare diciamo qualcosa qua in alto a sinistra vedete che il bianco fa pip impedisce e qua sembra quasi che il nero sia destinato a vincere il semeai perché vedete che queste pietre qua sembrano quasi intrappolate in realtà non è così perché queste pietre qua riescono da sotto ancora una volta impedendo al nero di combinare qualcosa in alto a sinistra dopo questa mossa qua praticamente il gruppo del nero qua è andato quindi il bianco ha tutta questa zona qua così che compensa ampiamente con la parte centrale ok qualche altra mossa questo è un bellissimo tesuji diciamo un po' inaspettato qua uno si aspetta un'entrata qua sotto in realtà questo tesuji è bellissimo perché minaccia di catturare queste due pietre connetto minaccio questa devo giocare qui perché contemporaneamente sono stato tagliato fuori anche di qua quindi qua c'è una doppia minaccia sia questa che questo gruppo qui quindi qua devo chiudere taglio e che cosa succede? che dopo questa bisogna rivalutare la posizione il bianco riesce a salvare questo gruppo qua si perché probabilmente qui vedete riusciamo a salvare anzi senza probabilmente se il nero gioca questo questo è atari e quindi bisogna tornare indietro mentre se il nero provava uscire di qua naturalmente c'è sempre questo ok qui il nero tende il più territorio possibile siamo già in finale classico doppio sente qui sotto l'unima parte interessante la vediamo qua in basso che ancora una volta forse il quadro seigen poteva semplicemente chiudere qua tuttavia gioca il co in realtà non poteva sto guardando adesso perché contro di questa questa scepo qua ma sì dovrebbe essere viva però lui comincia a complicare ok si prende un interessante giochino col co ok e dopo un po' appunto la partita si incanala la vado un po' veloce si incanala sul binario appunto della vittoria per go seigen quel computer dà 85% di probabilità di vincere a go seigen però vabbè insomma cominciava a fare i conti in realtà in bianco abbastanza indietro spero che questa partita vi sia piaciuta perché è una partita non molto nota di seigen però è una partita che illustra benissimo la lotta tra giocatori dan di alto livello come al solito qualcuno ha sempre dei dubbi su queste partite qui perché in effetti entrambi i giocatori hanno giocato bene e non si riesce a trovare il vero e proprio errore tecnico che ha portato alla sconfitta il giocatore però queste partite qua almeno hanno da un lato la grande capacità di essere sia divertenti ma soprattutto di essere molto istruttive arrivederci alla prossima puntata la prossima puntata la prossima puntata